Siamo sempre Stefano e Rebecca Ok, oggi vogliamo parlare dei ladri Sì Chi conosci? Qualcuno tu che hanno rubato? Sì Chi? Proprio a papà e mamma e io Ah, proprio a te? E Giorgia E Giorgia, ovviamente E raccontaci, come hanno fatto? Che cosa li hanno rubato? Noi stavamo al mare Stavamo in mare dentro Ah, nell'acqua proprio Sì, a fare delle foto Abbiamo Stavamo nel mare Il ladro aveva fatto Ha preso di forza Le cose C'era il portafoglio Le chiavi della macchina E la E la fede di mio papà Ah, e basta? I cellulari no? Mmm, solo uno Ah, pure il cellulare Mannaggia E quindi come hai fatto per andare a casa? Se le chiavi della macchina se le erano rubate? Ehm Abbiamo dovuto chiamare i nonni Perché c'avevano C'avevamo Un altro telefono Ah-ha Per fortuna E abbiamo chiamato i nonni E abbiamo detto se potevano andare a casa e prendere le altre chiavi di riserva Ho capito Ho capito Ma perché secondo te i ladri rubano? Ehm E mi ricordo che c'erano anche i pantaloni L'orologio Di papà Tutti sparpagliati È tornato in mutante papà proprio In costume è ritornato a casa No, perché ve l'hai ritrovati tutti sparpagliati Ah, in giro Sulla spiaggia Senti, dicevo Ma perché i ladri rubano secondo te? Non lo so Secondo te? Secondo te? Vogliono essere ricchi forse Ah Col cellulare di papà E col portafoglio di papà E lapide E lapide di papà Ovviamente Quindi i ladri rubano perché vogliono essere ricchi Però i ladri, cioè Lavorano pure Cioè Il ladro lo fa come secondo lavoro O è proprio il primo lavoro il ladro? Non lo so Secondo te? Secondo me è il primo lavoro Ah, proprio primo lavoro ladro In regola, tutto quanto No, in regola no Ah, in regola no Pagano pure le tasse loro Quello che guadagnano Ehm Non lo so Secondo te? Però secondo me sì Sì Perché loro guadagnano tanto Pagano pure le tasse Allo Stato Ehm Eh sì Eh, per forza Sennò che il ladro è? Eh Eh, giustamente Va bene Ehm Vuoi dire qualcosa a questi ladri? Magari ti vedono nel video Vuoi dire qualcosa? Basta rubare perché Non si può rubare Oh, non si può rubare No Oh, e se avete Per nessun motivo Il portafoglio del papà Io lo riportate Sì E anche se ci avete le chiavi Le chiavi Della macchina Ehm Se ci avete la fede Ok Che sta dentro al portafoglio Ah, il portafoglio La riportate No Salutiamo tutti Ciao Ciao a tutti Grazie a tutti.